Grazie a tutti. Poi dovremmo lasciare la parola di Scout per proseguire tutto il nostro percorso. Io ho avuto modo di meditare su questa lettera e di meditare a lungo. Io ho una grande fortuna, quella per ruolo che ricopro, che mi consente di vedere il Paese nella sua vita all'interno. Io ho visto in questi anni, in questi numerosi 12 anni, una multichari molto generosa. Ho visto una multichari aperta, ho visto una multichari sempre con la mano presa. Ho visto una multichari forse un po' arrabbiata di fronte a ciò che non era troppo legittimo, ma a questo che può essere consentito. Io penso che tutto ciò che si vuole costruire deve essere costruito solo sulla legalità, perché altrimenti nulla ha senso. Ci sono delle regole in questo Paese. Un Paese che è nato, cresciuto e vissuto in armonia, queste regole devono essere rispettate affinché il Paese cresca ancora maggiormente. Io direi che la grande generosità dimostrata è segno che i Montetarensi hanno il cuore canto. Per cui conserverò la vostra lettera. L'indirizzo vi auguro una buona giornata e sole con voi. Per cui buon giro per il Paese. Grazie. Grazie. Ho un sogno che un giorno questa nazione si sorreghi e viva pienamente, che è vero significato da sempre. Riteniamo questa verità per se stesse e evidenti, che i figli uomini sono stati cercati di guardare. Ho un sogno che un giorno spero se forlina della forza, i figli di coloro per te, con seduzione sui armi, e i figli di coloro per te, con seduzione sui armi, sapranno sedere insieme al palco della patatrice. Ho un sogno che un giorno vada finne lo stato del sessile, in un stato colpo dell'arroganza e della giustizia, colpo dell'arroganza e dell'oppressione, si trasformerà in una nuova città libertà. Ho un sogno che i figli di coloro vivranno un giorno in un'azione nella quale non saranno tutti i stagli, per il colore da dovere, ma per la qualità del loro caso. Ho davanti a me il sogno. Ho un sogno che un giorno ogni valle si fa esaltare, ogni collina e le montagne saranno in un'unica, i luoghi scarri saranno fatti piani, i luoghi torcosi tra i dettagli, e la gloria del Signore si mostrerà, e tutti gli esseri veniti insieme la verità. 28.12.1963, Marti in Puglia. 28.12.1963, Marti in Puglia.